Ciao a tutti, io ho un grande vantaggio su di voi e cioè quello che voi state pensando di fare io praticamente l'ho già fatto. È a mio parere un vantaggio perché in questo modo ho la possibilità come dire di potervi aiutare, di darvi alcuni consigli. È per questo motivo che ogni tanto faccio dei video tipo cosa fare prima di venire in Brasile o cosa pensare prima di venire in Brasile proprio per il fatto che sono cose o che io ho dovuto fare o che addirittura io non ho pensato sul momento e quindi come è successo? Beh allora qualche giorno fa ero in giro come adesso e aspettando appunto una corsa della Uber che non so per quale motivo mi sono venuti in mente i miei libri così non so perché ho pensato una cosa del genere però sono quelle idee che ti vengono in testa all'improvviso. Allora chi mi conosce, chi mi segue sa che a me piace tantissimo leggere e che mi piacciono anche tanti libri. Infatti quando ero in Italia avevo circa 1.500 libri. Magari per alcuni di voi non saranno stati chissà che cosa però insomma non erano nemmeno pochi. Di questi 1.500 libri ne ho scelti più o meno un 200 per portarli qui in Brasile. Gli altri che ho fatto? Gli ho a mia nipote. E allora qual è il problema? È che tutti sapevano che io sarei venuto in Brasile e tutti sapevano che io avrei avuto bisogno di più soldi possibili proprio per il fatto che avrei dovuto iniziare una nuova vita qui. Gente quando io dico che sono venuto in Brasile con 1.000 euro. Erano proprio 1.000 euro. Mi ricordo appunto che avevo 1.000 euro nel portafoglio e poi mi sembra che l'ho cambiato quando sono arrivato all'aeroporto. Quindi tutti i miei familiari, tutti i miei parenti, tutti i miei amici appunto sapevano che sarei venuto in Brasile e che avrei avuto bisogno di soldi. Bene, come ho detto questi libri un po' li ho dati a mia sorella ma la maggior parte a mia nipote. Pensate che mi abbiano dato qualcosa sapendo appunto che avevo bisogno di soldi. Niente, nemmeno 1 euro. Ora provate a immaginare il valore venale, che ne so io, di 1.000 libri. Cioè l'idea appunto che un vostro parente, parente prossimo sapendo tutte queste cose non vi voglia aiutare che non faccia assolutamente niente vi assicuro che non è una bella cosa. Poi sempre parlando di libri appunto come ho detto ne avevo portate qua in 200 più o meno, li ho tenuti per un po' di tempo. Dopo come dicono qui le cose hanno iniziato a diventare affertadas. Cioè il lavoro non stava andando tanto bene e quindi avevo bisogno un po' di soldini. E quindi come è successo? C'è una libreria qui in centro di Sorocada che vende e acquista libri usati. Quindi ho cominciato una volta a portare lì qualche libro ovviamente in italiano per vedere se lo comprava e effettivamente ha iniziato prima. Ok. Dopo una settimana ne ho portati ancora un poco e anche quella volta lì me li ha comprati. Poi però sono arrivato ad un punto che avevo così tanto bisogno di soldi che cosa ho fatto? Ho preso tutti i libri che avevo, li ho messi dentro in una valigia molto grande, una valigia che avevo usato per venire qui in Brasile e li ho portati tutti quanti a questa libreria. Gente è stato terribile. Terribile per il fatto che ho dovuto in qualche modo di farmi perdere vendere delle cose che io ci tenevo veramente tanto. E poi ragazzi credetemi, voi non avete idea, ma bisogna portare una valigia grande piena di libri fino a questa libreria che era in centro. Più o meno la distanza da casa mia era intorno ai 4 chilometri. La valigia quanto sarà pesata? Boh 50 kg più o meno perché era piena di libri. Con le strade e i marciapiedi che ci sono qui in Brasile con un caldo terribile. Quindi sono arrivato là che ero stravolto, ma letteralmente stravolto. E appunto gliel'ho detto al proprietario di questa libreria, guarda io ho ancora tutti questi libri in italiano, ho bisogno di soldi, dammi qualcosa, quello che voglio. Quel tipo lì o meglio quella tipa ha cominciato a dire ho cominciato a trovare scusi. Io però ero così stanco, così stravolto dal caldo e dalla fatica che gli ho detto guarda senti non ce la faccio portare a casa, tienili qua, ti lascio anche la valigia perché giuro se li porto a casa mi viene a mi fare. Così ho fatto, quindi ho lasciato questa libreria, una valigia piena di libri, mi avessero dato 10 reali, sarei già stato contento, ma non mi hanno dato assolutamente niente. Ma torniamo un attimino a mia nipota, appunto, io gli avevo dato dei libri. Tra le altre cose gli ho dato tre o quattro tappeti molto belli che avevo a casa. Erano tappeti, come dire, di importazione. Ricordo che avevo uno cinese, e per cinese non intendo uno comprato le bancarelle, proprio fatto a mano, fatto in Cina, molto bello. Ne avevo uno indiano, anche quello molto bello, molto colorato. Ne avevo un altro che io reputo, beh, tipo persian, dopo non so esattamente l'origine, però era quel genere lì. Quindi avevo un sacco di tappeti molto belli, anche quelli li ho dati a mia nipota. Oh Franco, ma se eri povero, come dici, come facevi ad avere tutte queste cose? Beh, semplice. Con il lavoro che facevo, avevo conosciuto appunto un negocio di mobili che vendeva appunto tutte queste cose. siccome a me piacevano e piacciono ancora i tappeti, e sapendo che mia moglie sarebbe venuta dal Brasile, ho cominciato a comprarli. Bene, anche in questo caso, quindi ho dato a mia nipote tutti questi tappeti molto belli e oserei dire molto costosi. pensate che mi abbia dato qualcosa? Nemmeno un euro. A un altro coglione di mio nipote avevo dato una macchina da caffè espresso della Gaggia, che già 15-20 anni fa l'avevo pagata 400 euro. Era una macchina molto bella, faceva un caffè uguale a quello del bar. Mi ha dato qualcosa lui? Niente, mi ha solamente detto, grazie Dio, ma va bene. Avevo un mio grande amico, proprio grandissimo amico, ne abbiamo fatti di cotte e di crude insieme. A lui ho dato, saranno stati, non sto esagerando eh, un migliaio di cd che avevo in casa, 400 lp, anche lui, grandissimo amico. Mi ha dato qualcosa in cambio, mi ha dato 10 euro, 50 euro, niente, alla faccia del grandissimo amico. Quindi perché vi sto dicendo tutte queste cose? Per un motivo molto semplice. Non fate affidamento sui parenti o amici, proprio non fatelo, perché sicuramente alla fine ci rimarrete molto male. Ah ma Franco, la mia famiglia non è come la tua, siamo molto uniti, ci vogliamo bene. Sì, c'era quello che pensavo anch'io, ma poi alla fine il risultato è quello che ho detto. Quindi, probabile, non lo so, che per voi le cose saranno diverse. Può darsi che in questo caso, come so, la vostra famiglia vi aiuterà in qualche modo, non ho idea. Io me lo auguro di cuore per voi. Però se non volete passare le situazioni che ho passato io, credetemi ragazzi, non fate affidamento sui parenti e amici, perché sono cose che dopo fanno male, fanno male dentro proprio, vi fanno stare male. C'era a dire una cosa, io ho dovuto fare tutte queste cose molto velocemente. Io avevo praticamente un mese di tempo per liberare completamente la cosa. Se io invece di un mese avessi avuto, che ne so io, un anno, allora forse avrei potuto fare in modo di vendere queste cose in un modo più appropriato, non lo so. Quindi, altro consiglio che vi potrei dare, se appunto un giorno deciderete di venire a vivere in Brasile, preparatevi già con molto tempo prima di venire, proprio per evitare tutto quello che ho passato io. Però il succo di questo video è proprio questo. Non basatevi sulla vostra famiglia, non aspettatevi, oserei dire niente da loro, né dalla famiglia né dagli amici. Fa che brutto dire una cosa del genere, so che è triste, però proprio per evitare di avere problemi dopo, proprio per evitare di stare male, è meglio pensare di non avere niente, piuttosto che pensare il contrario e poi appunto rimanere delusi in una maniera assurda. Quindi, torno a dire, io mi auguro che per voi le cose siano completamente diverse, però è meglio pensare al peggio se poi le cose invece andranno meglio. Per lo meno sarete già psicologicamente preparati, ok? Buon, questo è tutto, era quello che ci tenevo a dirvelo. Avevo già fatto un video parlando più o meno di queste cose, ma ho voluto in qualche modo ribadirlo, non so per quale motivo. E quindi noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!